Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare, è una semplice informazione. Siamo in un punto cruciale per il PUM, siamo ad un punto in cui nessuno prima di questa amministrazione era arrivato, siamo alla fase in cui si è messo in campo un progetto ambizioso, che ha lo scopo di riportare ordine, serenità e bellezza nella nostra città. In questi giorni ci stiamo confrontando con le forze politiche e i commercianti e dopo aver tenuto conto delle numerose segnalazioni che ci avete inviato, stiamo apportando degli accorgimenti per perfezionare il piano già in atto. Solo chi non opera non sbaglia e io preferisco il fare e perfezionare l'operato con l'aiuto di tutti. Chi frava che sfravaga non perde mai tempo. Buona giornata a tutti. Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare, è una semplice informazione.